Un dato di trimestrali in arrivo dall'Europa. Per i settori bancari un primo piano ANG che guadagna quasi il 2% sulla borsa olandese esce a una trimestrale migliore delle aspettative. Nei primi tre mesi dell'anno l'utile netto della banca è più che raddoppiato attestandosi a 1,8 miliardi di euro, oltre le stime degli analisti ferme a 1,48 miliardi. Il gruppo ha inoltre fatto sapere di aver quasi completato il piano di ristrutturazione e di poter accelerare sul progetto di IPO della sua unità assicurativa. Per il comparto delle telecomunicazioni sono arrivati questa mattina i conti di telefonica in attesa dei risultati di Telecom Italia. Il gruppo spagnolo ha chiuso il primo trimestre dell'anno con ricavi in calo dell'8,8% a 14,1 miliardi di euro. L'utile netto è salito invece del 21% a 902 milioni, ma l'utile operativo, prima di depreciamenti e ammortamenti, è sceso del 10% a 4,57 miliardi. A pesare sul risultato la debole performance in America Latina e in Spagna, l'indepitamento netto è peggiorato attestandosi a 51,8 miliardi.